Salve a tutti e bentrovati. Siamo qui ancora una volta in compagnia dei passaggi, del mondo della noia, del mondo della moda, tra collezionisti, fotografi, la daguerotipia, il flaner. Per questo anche, oltre all'opera di Benjamin, che ci ha accompagnato in questi due appuntamenti e ancora in questo terzo, vedremo anche Valser, la passeggiata di Valser, scritta nel 1919, dove troveremo davvero l'emblema stesso del flaner. E poi anche questa opera di Huzan, Ladri di libri, un'opera davvero preziosa, una vera chicca, che ancora ci porterà sul lungosenna e troveremo tanti aspetti curiosi. Se possiamo essere consapevoli di ciò che ci capita attorno e di quella che è la storia dello shopping, della noia, del passeggio, del guardare le vetrine, dei belletti, dei saponi, dei ristoranti, degli elettrodomestici, di vizi e viziucci, frutti e primizie. Forse riusciremo a vivere in modo veramente con minore disincanto e spero anche con più divertimento, senza mestizia, di partecipare a questo nostro mondo futile e del superfluo consumistico, anche rivestendolo di un sapore un po' retro e di uno spessore culturale, sociale e filosofico. Perché volente o nolente siamo figli del nostro tempo, il nostro bisnonno, il nostro trisavolo era un flaner, forse, probabilmente. E quindi andiamo là, andiamo da Baudelaire, assaporiamo il frutto un po' stantio, la natura un po' morta, la bellezza artistica messa in luce dal vetro e dal cristallo, dal ferro battuto e dal colore, dei vetri colorati, dell'art nouveau, dell'art déco. E gli elementi culturali ci diranno qualcosa di più su di noi, sugli altri. Quindi grazie, grazie a Benjamin, grazie anche ad Agamben, che nel 1981 scopre nella Biblioteca Nazionale di Parigi i manoscritti di Benjamin. Egli interrompendo per due anni il suo lavoro, approfondisce il lirismo di Baudelaire e si occupa appunto di lui in relazione a Parigi e alla sua mondanità. Quindi consiglio anche la lettura del saggio di Agamben su Benjamin e su Baudelaire. E oltre a questo romanzo di Walser, che sarà una vera e propria passeggiata, Lui, Walser, ci offre una metafora della scrittura nomade, dissociata, molto molto interessante perché il posto che occupa lo scrittore è sempre un posto un po' sbagato, un po' annoiato, un po' distaccato. Passeggia ma come se vedesse tutto attraverso un vetro e vagola tra figure disparate, alcune amabili, altre benevole, altre indifferenti o inquietanti, con quell'ironia beffarda che pare guardare al di là per recarsi dritto dritto nei meandri della sua stessa mente. Mi colpisce il contrasto veramente tra la solitudine e la folla, la bellezza della natura e il decoro della piccola cittadina svizzera piena di folcloristiche figure, cantanti, cantanti, bancari, insegnanti, osterie, parrucchieri, il contrasto tra il semplice girovagare inseguendo pensieri e immagini e a volte anche un po' banali e forse mi dico è proprio voluto questa banalità, questo veramente arrivare a uno stile che rimane sempre raffinato, altissonante, forse anche fin troppo ricercato e combina molto bene nel corso di queste cento pagine, diciamo è un piccolo breve romanzo o racconto lungo, aspetti riflessivi, aspetti raccrapriccianti, grotteschi, alterna momenti spensierati e giocosi, a ironici, a poetici, a lirici, quindi ci sono veramente dei mondi da visitare nel giro di poche pagine e sul far della sera si apre poi la riflessione e un atteggiamento malinconico, la melanconia è tipica, lo splin è tipico di questo periodo, la vita è come una passeggiata. E qui c'è anche un po' di pessimismo, un cane che si disseta a una fontana, le gonne corte, gli stivaletti alti, i cappelli, un salto nella moda, tra frivolezze, cieli azzurri e si rivolge al lettore. Mentre tu, caro lettore, ti prendi la briga di procedere coscienziosamente nel chiaro, festoso, mattino, insieme all'inventore e scrittore di queste righe, senza fretta né urgenza, bensì con ogni delicatezza, agio e lucidità, prudentemente, pianamente e tranquillamente, ecco che arriviamo davanti alla già citata panetteria, dalla squillante insegna dorata, dove ci arrestiamo con raccapriccio, perché al cospetto di tanta grossolana boria e della strettamente connessa deturpazione del più delizioso panorama, ci sentiamo mossi a forte corruccio e sincero sbalordimento. Un operaio gli urla dietro, che mentre altri sgobbano, lui, in pieno giorno, passeggia. Ciò non turba il nostro flaner, anzi, lo saluta, gli dà ragione, ci descrive bel bello il suo abbigliamento, vestito di taglio inglese, giallo chiaro, che lo fa sembrare un lord, un marchese. Si definisce bighellone, distintissimo, vagabondo, fanullone e perdigiorno. Ma non solo, non si rattrista, ma passa tra orti pieni di ortaggi e fiori, gemme di fragole, lampie idee che vedono sbucare il gigante Tom Sack. avrebbe voluto schiacciarlo dall'alto dei suoi centomila anni, colosso e fantasma, che può essere congedato, proseguendo su un terreno boscoso, silenzioso, come in un tempio, come in un castello fatato. Poi, troppa scrittura, affatica. Avrei, avrei proprio come lavoro, rapito dal canto di una fanciulla, avrei voluto riposarmi. E voi, forse, avrete capito il tono e lo spirito, quindi, di questo scrittore raffinato, che può ravvivarsi e mantenere un contatto con il mondo, e va a caccia di notizie, appunti, osservazioni, passeggiate prolisse, come lui le definisce, le cose più sublimi e umili, bambino, cane, zanzara, caccola e chiocciola, sono in ugual misura care, belle, preziose, fiducioso abbandono, curiosità, in cui sorride, il cui, in cui il sorriso prevale sul rovello. Lo slancio amoroso del poeta verso il mondo circostante non è mai mortificato, conscio degli alti e bassi della vita, della caducità, rimane equilibrista, in cui la corda dell'immaginazione si mantiene tesa fino alla fine. La vostra passeggiata con me poi non può prescindere da una puntatina sul lungosenna. E passeggio tra i banchetti del Bouchinist, è un luogo ideale, ideale, per osservare da vicino diverse bizzarre manifestazioni di chi ama a tal punto i libri da rubarli, ladri di libri. Con spassose, ingegnosissime tecniche e proprio un raccapparramento che non si riesce, non si riesce a sfuggire. Lui, Octave Uzzan, giornalista, collezionista, editore, scrittore, nato nel 1952, è stato uno dei più attenti bibliofili dell'Ottocento. Tanto da acquistare il titolo di principe, pensate, della biblioteca, della bibliofilia. E per ragioni misteriose, finì per vendere all'asta la sua stessa biblioteca, dedicandosi al giornalismo di cronaca e lasciando Parigi. Ma noi invece ci faremo ora proprio un giretto là, tra questi ladroncoli e questi cacciatori di libri dal sangue ardente. Alcuni fanno ricerche mirate, come lo studente universitario o il collezionista che vuole proprio quello, o gli amatori di almanacchi, miscellane letterarie, monografie sulle bellezze storiche, artistiche, souvenir. Altri come Humbert, alto funzionario al Ministero delle Finanze, fa una puntata sul lungo Senna e raramente torna a casa senza aver comprato qualche cosa. Lui, che proprio vuole darsi da fare e c'è e c'è da spigolare in tutte le stagioni, compra biografie, ritratti, spartiti musicali, riviste, canzoni. Non tutti vogliono godersi un placido possesso, però. Ricordiamo il conte di Tustain, che rivende e compra continuamente e complicati scambi che fanno la gioia dei librai. Infatti, loro ci guadagnano proprio da questo giochetto della compravendita. Guardate là, lo scapolone, sempre in Ginghary, merito della sua governante, con il suo cilindro attesa larga, ha sempre da fare un appunto, ora alla pagina strapazzata, ora alla macchia di umidità sui margini, oppure a una chiazza o a un orecchio e di un libro. E queste critiche, perché? Tutto per strappare un prezzo più basso, naturalmente. Ancora, passato alla storia, vi è un tipo pittoresco, soprannominato per Rembrandt, per via del cappello floscio a larghe falde e del colletto rialzato, come era nella moda del XVI secolo. Poi, Boulard, il grande accapparatore di libri, e il vecchio notaio comprava libri al metro, al metro, pensate, in blocco, a ceste, ma ne aveva piena zeppa la casa nel sottoscala, negli armadi, ne aveva 30.000, ma no, 300.000 volumi, è veramente, ma se in questa Parigi della bella epoca, avremo la fortuna di imbatterci in quei gaglioffi gentiluomini che da soli o in compagnia con mano lesta e tecnica raffinata, sottraggono il malloppo, da sotto il naso ai librai distratti, e allora abbiamo proprio questo, questo esilarante modo di rubacchiare di qua e di là. il collezionista intenzionato a sgraffignare un libro si avvicina a un cassone tenendo con un curanza il giornale nella mano sinistra, prende un libro, un indodicesimo naturalmente, lo apre e legge una pagina, due, venti, verrebbe quasi voglia di offrirgli una sedia, ma la sua attenzione non è rivolta alla lettura, non perde d'occhio un istante il venditore e non appena questi gli volta le spalle o si distrae un attimo il libro si chiude e scivola nella piega del giornale che il mariolo si caccia tranquillamente sotto braccio prima di allontanarsi con aria placida e soddisfatta. Chi sospetterebbe mai che un signore con un giornale ripiegato in quattro stretto sotto l'ascella si è portato via un libro senza pagarlo e poi molto divertente anche il vademecum psicologico fisiognomico che ogni accorto libraio deve tenere assolutamente in mente proprio per rammentare e per essere sempre guardingo nei confronti di chi potrebbe rubare e allora abbiamo proprio questo vademecum uno di fidare delle signore munite di sporte tenendo d'occhio quelle con il manicotto due di signori e signore vestiti con abiti comodi impermeabili e potete immaginare rendigote senza avere l'aspetto né di ambasciatori né di principesse tre signori che tirano sul prezzo di un volume a cinque franchi e hanno le dita dei piedi più lunghe delle scarpe se vi offrono quattro franchi e cinquanta e accettatevi chiederanno di tenere da parte il libro con la scusa di non avere contanti con sé ripasseranno l'indomani il giorno dopo però si presenterà senza preavviso un cortese signore che si porterà via non pagandole le opere interessanti che gli sono state segnalate dall'amico quattro infine attenzione a quelli che indossano ampi palto e hanno la nuca tozza e grinzosa il dorso delle mani abbronzate ma il palmo bianco è liscio è gente che vive per strada e non lavora ogni mestiere lascia le sue stimmate quelli reccano il marchio inequivocabile dei ladri sentite sentite che verve che che ironia è divertente veramente tutto ciò ora però dobbiamo assolutamente arrivare a un dulcis sinfundo che che però è anche un facciamoci del male alla fine da facciamoci del male ragazzi arriviamo alle tipologie più turpi prima distinguiamo il bibliofilo dal bibliomane ma tra essi sta il don Giovanni del libro come questo amatore non amava la donna in quanto lei ma amava il genere femminile sentite il paragone così così il don Giovanni dei libri cioè il catalogatore colleziona i volumi come era animato da freddo spirito e cuore di marmo per sciocco orgoglio e vanità aggiungeva una donna un nome alla lista così così fanno i catalogatori e abbiamo proprio questo ritratto sentite il catalogatore colleziona volumi come altri raccolgono curiosi frammenti di silice di nefrite di serpentino o di ossidiana possiede libri alla stregua di tappezzerie mobili di pregio bronzi e soprammobili di ogni genere prima ancora di aprirli ne fa rilegare magnificamente la brussura non ha una biblioteca ma una conceria ai nostri giorni la bruyère sarebbe più severo di un tempo possa la sua ombra guidare noi suoi infimi nipotini che metteremo alla prova il nostro estro ritraendo qualche catalogatore ispirandoci a un ottimo modello si indulgente benevolo lettore dei nostri capricci se il nostro pennello è talvolta inefficace bene e allora siamo giunti alla fine della nostra passeggiata sono stata proprio contenta di avervi scortato fino a qui ora sta a voi continuare continuare a intrattenersi a intrattenersi con Baudelaire con Benjamin con questi ladri di libri o con Valser e soprattutto passeggiare passeggiare acquistare collezionare vagheggiare in un'atmosfera di sogno assonnata annoiata un po' tediosa un po' malinconica e sempre però attenta alla moda ai dettagli mi raccomando alla prossima